Perché Filippo in tutti noi e molti tifosi c'è la sensazione che questa squadra vada pesantemente ritoccata? Aiutami dal punto di vista di un direttore sportivo a capire perché per esempio riteniamo che la difesa vada quasi completamente rifatta. Perché a gennaio non conoscevate Ferrari e non conoscevate Zuculini e quindi pensavate che a gennaio il mercato di gennaio era un mercato scintillante quello del Bari o quello del Frosinone e Modesto quello del Verona. E credo che invece se uno conosce all'interno le qualità morali del gruppo i giocatori nuovi che entrano a dare le qualità che possono avere sono facilitati a mettere a disposizione di una squadra. Se uno conosce sa che in campo si va in 11 quindi riferimento al Protone torniamo di prima. Il Parlamento della Frosinone al Pescara sono due situazioni che hanno avuto l'umiltà di ripartire prendendo dei giocatori che hanno determinate caratteristiche funzionali all'idea di gioco che aveva Nicola che poi ha cambiato nel corso dell'anno. La nostra capacità deve essere di smantellare o cambiare legalmente una squadra. Prendere tutto quello di positivo c'è e c'è tanto secondo me in questa squadra. Non mi riferisco ai singoli giocatori solo ma riferisco al globale, all'atteggiamento, a quello che hanno fatto, all'accettare in maniera quasi incondizionata una nuova proposta di stile di gioco dell'allenatore. Non era facile cambiare il chip mentale, l'hanno fatto tutti con grande abnegazione e con anche grande senso di responsabilità. A volte è riuscito meglio, a volte è meno bene. Però credo che la squadra debba avere giocatori per fare la Serie A e può essere integrata, migliorata. Poi in quanto? Nel 20, 30, 40, 50, questo secondo me è successivo. Alla fine in campo vanno sempre in 11, così c'è a Zeman. Sempre in 11 si gioca e se ne puoi pigliare i 50, quelli che giocano sono sempre in 11. Sperando che gli 11 siano quelli più adatti all'idea di gioco e all'obiettivo che vuole raggiungere la Sferona. Ecco però tu hai cucito un vestito del tessuto che tu non avevi comprato, che ti sei trovato un po' in casa. Quindi va bene il discorso, bravo Bigon, bravo Sogliano, però non era il tuo tessuto. Ti piacerebbe incidere di più, cioè che il nuovo vestito del Verona fosse con tanto tessuto di Filippo? Tessuto? No, scherzo. Io credo che l'obiettivo nostro è mettere da parte, noi siamo degli strumenti, delle società, degli allenatori, quindi dobbiamo cercare di valorizzare al massimo le risorse della società. Arrivare a cambiare tutto è un errore enorme. Gestire e valorizzare i giocatori che ci sono a Verona è un dovere, credo per un buon direttore sportivo, uno che sia intellettualmente onesto. Quindi il mio obbligo principale non è dire cambio tutto perché sono più bravo degli altri, perché voglio dare una mia impronta. Cambio dove credo sia opportuno cambiare per migliorare o per adeguare a quella realtà nella quale ci troviamo, per rispettare un budget economico, però soprattutto cercare di gestire al meglio i giocatori che ci hanno trovati. Supra Yen, faccio l'esempio di Supra Yen, giocatore più continuo, giocatore di movimento che ha avuto più minuti con noi, giocatore preso, in maniera ottima a condizioni favorevoli dal direttore sportivo dell'anno scorso. Per sfortuna, per gestione, per situazioni, ha giocato tanto poco l'anno scorso, con la Supra Yen sono un giocatore di grandissima continuità e l'uno del quale sono orgoglioso che abbia fatto parte della nostra squadra, perché oltre ad essere un giocatore forte, è un uomo straordinario. Quindi questo è il mio dovere. Io dico Supra Yen, lo prendo, magari non l'avevo preso io, il mio obbligo è valorizzare al massimo, umanamente, professionalmente, mettere Supra Yen nelle condizioni migliori e grande al massimo. Quindi io posso anche non prendere neanche un giocatore se ritengo che la squadra fatta da Bigondo, da Soiano, era una squadra, chiaro, conosco Bessa, faccio un nome, o conosco Zuculini o conosco Ferrari, riporto perché è un giocatore dei quali sono i valori umani e tecnici, un vantaggio in più perché conosco le persone. Io cerco di mettere sempre al primo posto la persona e poi il calciatore. Se ne riusciamo a mettere, anche nella gestione, questo è la cosa di cui vado più orgoglioso e di cui mi hanno dato atto molti calciatori che c'erano qui prima del mio arrivo. Quindi ho sempre pensato che una persona equilibrata, serena, felice, sia un giocatore migliore. Il nostro obiettivo era mettere tutto nelle condizioni migliori per rendere al massimo. A volte ci sono riusciti, a volte oltre meno. Speriamo di fare meglio l'anno prossimo. Considerazione di Setti che trova concordi molti e anche io sono abbastanza concorde. Il gioco di Pecchia è più adatto per la Serie A? Io credo che fare un calcio proprio positivo in B sia difficile. Non perché la B è livellata verso il basso, che credo sia un grande errore di prospettiva, ma perché la B è un cambiato fisico più difficile per i giocatori tecnici e per un calcio proprio positivo. Perché la B non è livellata verso il basso? Perché tante squadre che vengono laggiù, perché le squadre che scendono da su, in 11 volte negli ultimi 10 anni sono salite. Quindi su 3 è un terzo, un po' di più di un terzo. Salgono direttamente 4 o 5 negli ultimi 10 anni, considero anche dentro c'è anche la Juve, dei campioni del mondo. Le neopromosse dalla Lega Pro sono le squadre che spesso fanno il doppio salto. E in mezzo c'è una squadra che possono fare play-off o salvarsi o retrocedere come il Trapani l'anno scorso, no? Perché? Perché si gioca in 11, perché è un calcio fisico, è un calcio fresco, sono trasferte difficili, è un campionato lungo. Tutto questo favorisce delle squadre che hanno un po' meno valori tecnici e più valori atletici. Provare a fare un calcio organizzato, propositivo a fare un gol più degli altri, è un po' più dispendioso e più difficile. Quindi secondo me in Serie A, dove magari il livello generale si alza, ma perché è differente, no? Perché credo che un calcio manovrato di proporre un gioco può rendere bene il Napoli di oggi, che è terza, arriva terza o seconda in campionato, dipende da che succede, per una squadra che fa un gioco propositivo e che in Champions League si è giocata con Real Madrid, che la finalista è in campionato, arriva lì a pochi punti alla Juve, che è l'altra finalista della Champions League. Per dire che il calcio italiano è così vituperato, evidentemente il livello non è così basso, come a volte noi pensiamo. Quindi la Serie A è un campionato forte, competitivo, ma bello, dove si uniscono tecnica e tattica allo stesso modo, e anche atletismo e fisicità. La B è un campionato bellissimo, avvincente, ma dove ovviamente molte squadre puntano sull'agonismo per raggiungere il risultato e ben venga. Abbiamo fatto un sondaggio, l'ultima domanda che ti faccio, abbiamo fatto un sondaggio ieri sul nostro sito, Cassano dove lo metti nella squadra di Pecchia? Ah per ora non lo metto perché non lo abbiamo. Però dove lo metteresti? Dai fai un gioco. Ma non faccio l'allenatore io, Cassano e Torri di Pietro Pima è un campione. Però se glielo prendi dove lo metteresti? È un campione, sarà un problema l'allenatore. Bella patata bolletta che gli dai. Buongiorno direttore, ciao Filippo. Visto che il collega Gianluca ti ha parlato di Cassano, ti chiedo una cosa su questo argomento. A prescindere dall'indiscusso grande talento del calciatore, tralasciando naturalmente tutto quello che è il suo passato, tutte le varie polemiche, i dibattiti che ci sono stati, io ti chiedo, dovesse accadere il senso di questa operazione nell'ambito di un Verona, di un progetto Verona, definiamolo così, in cui l'obiettivo è valorizzare i giocatori più giovani, emergenti, dare spazio a risorse diverse, a quello che può essere il Cassano di questo momento. Stiamo parlando di una cosa che per me oggi non esiste, perché il campionato di ieri Cassano è un giocatore che ha fatto una risoluzione di contratto con la Sampdoria, quindi per me è un non problema. Se vuoi parlare a livello metodologico, i giocatori più esperti, se sono forti, e possono darti un quid plurist al gruppo, come qualità e come sanità, sono i benvenuti tutti. È chiaro che nel nostro non possiamo fare solo una squadra di giocatori, diciamo, ultra trentenni, sia pure grandi campioni. Il nostro obiettivo è cercare di fare come abbiamo fatto quest'anno, perché delle squadre davanti eravamo quelle, diciamo, delle tre retrocesse, quelle con una metà media molto più bassa rispetto a Frosinone e rispetto al Carpi, provare a lanciare, a valorizzare, qualche volta Cappelluzzo, Fares, Zaccagni, Valotti, che pure sui 93 aveva giocato molto poco, Ferrari, che è arrivato, è un giocatore del 94 giovane, Boldog, che è un 95 giovane, quindi cercare in assoluto alcuni nostri, altri condolitti di riscatto, creare le condizioni giuste perché i giocatori giovani, possibilmente il proprietario di Verona, trovano spazio. Quindi se un giocatore esperto, come è stato Pazzini quest'anno, può darti una mano affinché il risultato di squadra sia migliore e quindi i giocatori giovani vengono valorizzati, certamente è un valore aggiunto. Questo è il livello metodologico, al di là del discorso di Cassano. Ci sono incedibili sul mercato? Ti dico Bessa, Pazzini, Romulo, ti faccio questi tre nomi. A parte che poi l'incedibile, come sempre, non c'è nulla, non penso assolutamente. Non c'è nessuno, sono giocatori che hanno fatto molto bene, giocatori importanti, uno un po' più giovane degli altri, gli altri con più esperienza anche di categoria, siamo contenti di quello che hanno fatto. Poi bisogna confrontarci anche con le loro legittime, o meno, aspirazioni a capire. Quindi c'è un confronto che va fatto quotidianamente, ma adesso siamo ancora in una fase così preliminare che non sono fatti ragionamenti. Se a me rimane il calcio, incedibili non ci sono nessuno. Alla fine il Napoli vende Iguain, la Roma vende Pjanic, la Juventus, quindi sono situazioni che non sono oggi preventivabili. Le valutiamo, la mia idea, ti ripeto, è di salvaguardare l'idea di squadra, la mentalità, la cultura del lavoro di questa squadra è intensa in tutti i 27 componenti. Quindi questo, il più possibile è salvaguardare. Ma questo va salvaguardato come intento di gruppo e prescindere i singoli calciatori. Come impronta per allestire la prossima squadra, il prossimo Verona, guardi, naturalmente mi direi che guardi in una direzione come nell'altra, però sei più avvezzo, visto che in queste esperienze in Serie A a guardare all'estero oppure saranno in Verona più italiano? Io di massima i calciatori conoscono la Serie A e il campionato italiano io di massima li preferisco, italiani o conosco il campionato italiano. Poi è chiaro che anche lì la situazione all'estero ci possono essere delle risorse che non dobbiamo prioristicamente trascurare. Abbiamo seguito tanto quest'anno il campionato estero, ovviamente poco dal vivo, moltissimo, in video, però anche dal vivo qualche volta siamo riusciti a seguire i campionati giovanili. C'è un background da parte mia personale dei ragazzi che lavorano con me di viaggi internazionali lunghi negli ultimi due anni, quindi è chiaro che qualche ragazzo giocatore che ha avuto dei momenti di crescita o anche di involuzione che riteniamo possa darci una mano ci sono. Però se devo individuare il nucleo portante lo individuo in un nucleo di giocatori formati in Italia, italiani che conoscono il campionato italiano. O comunque stranieri che conoscono già la Serie A. sono in Italia, esatto, questo è formato in Italia. Grazie. Ciao direttore, ben trovato. Ti chiedo, riguardo invece al, vabbè, la tua conferma viene, tra virgolette, spontanea dopo quell'ottimo risultato come quella di Fabio Peca. Ti chiedo, il ruolo di Luca Toni in questo caso dall'anno prossimo quale sarà? Ma guarda, la mia conferma è spontanea. La mia conferma, diciamo, è la controattualmente prevista. io grazie a Dio non mi sono mai sentito vincolato ai contratti quindi la mia conferma viene dalla fiducia che il presidente mi ha dimostrato profondamente in questi mesi da quello che ha dimostrato verso l'anneatore. Chiaro Luca è stato un campione importante, quest'anno credo che per lui sia stato un anno di zero per capire il ruolo, capire le difficoltà. Sarà soprattutto a lui capire che tipo di ruolo vorrà fare e che tipo di spazio ritiene e pensa di poter avere. Ecco, potrebbe comunque crearsi una copia Fusco-Toni come è stata quest'anno? Ma è rimasto credo che il riferimento della squadra come ho sempre detto le responsabilità delle scelte tecniche sono sempre state le mie nel bene e nel male anche negli errori che ho fatto che hanno fatti tanti ce l'ho segnato in un libricino tutti gli errori fatti quindi mi sono sempre assunto questo tipo di responsabilità per tutte le figure intorno alla società è giusto che ci siano a volte sì a volte no perché è chiaro ci deve essere l'univocità della fonte si chiamano in diritto quindi la fonte deve essere univoca e deve essere il direttore sportivo nell'area tecnica e l'allenatore in campo sul resto Presidente però ho detto qui in varie conferenze che ho fatto è chiaro che un patrimonio di ex calciatore non può essere disperso mai dipende in che funzione gli dai e se quella funzione è pagante per loro Parlando invece di calcio giocato la differenza di punti dal giorno d'andata a quello di ritorno 41 contro 33 come ti spieghi questa involuzione che c'è stata nel giorno di ritorno una cosa anche normale visto quanto avevate corso nella prima parte di campionato avevi già detto prima che hai sempre creduto alla promozione e ti chiedo quanto è stato importante che il gruppo si sia ricompattato dopo un momento insomma dove ha attraversato un po' di burrasca mettiamola così ho fatto una domanda con una serie di risposte dentro fammi resettare allora ti dico meno punti rispetto al giorno di ritorno nel giorno di ritorno è perché è un fatto statistico chiaro noi aspiriamo a fare più punti nel giorno di ritorno rispetto a quelli di andata è chiaro che devi aspirare a questo secondo me la partenza con le sconfitte di Latino e di Avellino sono state negative ha condizionato molto il giorno di ritorno episodi un po' sfortunati però nelle ultime 15 partite ti ripeto abbiamo fatto perso una sconfitta abbiamo subito pochissimi gol su azione quasi tutti sul calcio pezzato sul rigore e ne abbiamo subiti anche pochissimi perché se tu togli quei 9 gol fra Cittadella e Novara abbiamo la seconda migliore difesa dopo il Pisa che però fai un tipo di gioco diverso dal nostro e i numeri dell'attacco e l'esito del risultato lo confermano quindi questo è sicuro dubbi non mi hai avuti quella terza domanda com'era? la compattezza dello spogliatore ma sai cos'è i risultati positivi aumentano nelle vittorie c'è entusiasmo quindi questo è normale che il collante migliore sono i risultati credo che l'abilità dell'allenatore del gruppo del capitano della squadra di tutti i ragazzi sia di rimanere compatti soprattutto dopo la partita con lo Spezia in casa persa partita che secondo me negativa ma che potrà tranquillamente finire con un risultato diverso perché è una partita oggettivamente brutta abbiamo perso la squadra in quel momento invece di smarrirsi si è compattata si è unita e ha avuto anche l'orgoglio di mostrare a tutti le qualità che avevano è tanto vero che poi abbiamo fatto una striscia di risultati importantissimi anche in situazioni difficili e mi riferisco una per tutti all'inferiorità numerica al secondo tempo a Bari a delle situazioni che comunque non erano alla condizione del campo con l'entella la pioggia la situazione che si è creata situazioni tutte difficili l'ultima partita a Cesena quindi credo che la squadra la partita in casa col Vicenza sono una serie di situazioni davvero che se non c'è un gruppo con valori umani non solo tecnici e atletici perché questo va rimarcato secondo me non ne usciva fuori quindi questa è una prova della bontà della scelta degli uomini poi ci sono giocatori possiamo avere opinioni diverse possiamo sbagliare tutti e io sono quello che sbaglia di più però me ne assumo sempre le responsabilità e su uno direttore spicca Gennaro Torrianello perché insomma è stata la 3D Union dello spogliatoio un giocatore più volte accantonato in panchina però quando è stato chiamato specie nell'ultima parte del campionato ha sempre dato una risposta importante soprattutto appunto colonna portante dello spogliatoio sai ci sono dei calciatori che sono trasmettono entusiasmo coagulanti i due ne abbiamo avuto noi due in particolare senza non togliere gli altri che sono tutti ragazzi sono due un po' meno utilizzati uno è Franco Zugulini che nelle difficoltà di un momento secondo me ha trasmesso questa sua grinta questo suo entusiasmo non solo al pubblico anche all'interno perché è contagioso quel tipo di atteggiamento e l'altro è Troianello che magari è venuto qui riflettori spenti al delà del suo regolo di promozione degli altri però anche in campo è quello che noi spesso abbiamo ripetuto l'unico giocatore che non aveva partito titolare dall'inizio sono Troianello e Coppola gli altri tutti hanno avuto almeno una presenza da titolare diciamo quindi ciò nonostante è sempre rimasto per alzare il livello di allenamenti in una partita decisiva come quella con il Vicenza ha dato quella scossa che serviva perché è un giocatore aggregante e che secondo me doveva sentirsi fin dall'inizio più giocatore meno amuleto e alla fine ha dimostrato che è un giocatore integro sempre a disposizione per 42 partire su 42 e se questo passaggio mentale l'avesse fatto prima e non pensare che era qui solo perché ha vinto tanti campionati potrebbe darci ancora una mano di più anche in campo lo ha fatto in due o tre circostanze importanti lo potrebbe farlo anche più spesso ultima battuta torniamo invece al discorso di mercato visto che adesso si apre il campionato più lungo dell'estate appunto quello del calcio marcato e Gianluca Pegolo è in scadenza di contratto con il Sassuolo so che nei prossimi giorni ti contrarai con Andrea Pastorello lo chiederti in merito non ho fatto valutazioni francamente su questo giocatore e su altri stiamo valutando altre situazioni più di metodologia di budget che di singoli giocatori chiaro che nella mia testa ho una serie di giocatori che abbiamo seguito durante l'anno perché abbiamo fatto un'ipotesi serie A anche se ero convinto però era mio obbligo professionale immaginare anche un esito differente del campionato quindi su questi nomi che abbiamo analizzato le posizioni dovrò confrontarmi con l'allenatore con il presidente anche perché scusami direttore Gianluca rientrerebbe appunto nella lista di quei giocatori cresciuti nel settore giovanile che quindi per le liste potrebbe... questo non ci deve mai condizionare dobbiamo fare scelte tecniche noi tecniche di continuità quindi Pegolo è un giocatore importante ha fatto bene cresciuto il Verona questo è sicuramente un valore aggiunto per noi ma in questo momento non mi pongo proprio il problema di giocatori bandiera o non bandiera posso formelo per l'Aner che è un giocatore nostro che torna dal prestito di Modena se lui vorrà rimanere con noi era un impegno preso con noi sarà uno di quei quattro giocatori bandiera perché un impegno preso con lui quando gli abbassai il contratto gli allungai e andò in prestito a Modena se lui vorrà l'Aner entrerà in questa lista di giocatori ma non deve essere se lui penserà di avere altre situazioni più ambiziose è una libertà di farlo non condizionerà questa è la mia scelta nei suoi confronti in un senso o in un altro cerco solo di essere diciamo conseguente e coerente con quelle che sono stati i miei impegni preliminari grazie grazie direttore allora complimenti sicuramente la vittoria dei giocatori del mister ma anche del direttore visto che come ho detto la prima volta sono quello che ha la carta di identità più avanti degli altri a me piace guardare molto al futuro e credo che questa squadra abbia bisogno di unire i giocatori esperti con i giocatori giovani ma soprattutto i giocatori giovani anche di esperienza della serie A perché abbiamo molti giocatori non più giovanissimi ma che non hanno esperienza in serie A tu come pensi di amalgamare queste due cose per fare sì che il Verona nel primo anno possa svolgere un ruolo tranquillo io credo che quest'anno se facevi l'elenco dei giocatori che hanno giocato in serie A del Bari e quelli del Verona escluso Pazzini c'è una differenza di 1 a 10 chiaro che uno in serie A non ci gioca fino a quando non ci ha giocato secondo me Valotti e Zaccagni Valotti poco Zaccagni e Mai sono due giocatori che proprio in serie A possono dire la loro hanno le qualità tecniche atletiche perciò faccio due esempi di due giocatori che sono giovani e sono del Verona chiaro che rispetto a questo fino a quando non c'è la prova provata della loro presenza non lo sapremo mai quindi il nostro obiettivo principale è dare continuità a dei ragazzi che sono del Verona che quest'anno hanno fatto bene e che secondo me per una serie di questioni possono trovare spazio in A più o quanto non l'ho già trovato in serie B al netto ovviamente di piccoli infortuni di fastidio di situazioni tecniche se subessa in serie A ha zero presenze e secondo me è un giocatore che ha manifestato interesse da più di una squadra di serie A ovviamente che non vuol dire perché il giocatore ha 24 anni non ha fatto neanche una presenza in serie A lo scorso retrocede col Comunici però credo sia stato uno dei protagonisti del campionato della serie B in assoluto Pazzini è stato il capogoniere della serie B si è calato in realtà che non affrontava da tanti anni però l'ha fatto in maniera straordinaria con grande umiltà e grande impegno quindi non c'è mai una verità fino a quando non ci sono le circostanze a provarlo io credo che il nostro obiettivo ti ripeto è creare una squadra di valori di valori intendo valori tecnici pratici soprattutto umani professionali e con una cultura del lavoro e una cultura vincente e questa cultura la crei per tanto giocatori che abbiano questo tipo di approccio la linea portante della Juve ecco ora vado un po' più in alto prima del tutto non era parto della Juve sia uno Buffon Bonucci Barzaghi e Chiellini Barzaghi e pur se gioca di Mene sia uno 81 quel tipo di cultura di atteggiamento ce l'ha avuto la Juve rispetto alla finale di tre anni fa in campo credo che avrà tre giocatori in campo verosimilmente a Cardiff solo i tre o quattro della finale di Berlino il che non vuol dire che al contributare la Juve non ci sia stata parliamo ovviamente proiettandoci ai massimi livelli però per noi la Serie A è come la Champions per la Juve ovviamente è un obiettivo principale da mantenere quindi io sono ottimista perché sono sicuro che noi dobbiamo riuscire a creare questo tipo di mentalità e di atteggiamento penulti una cosa che sappiamo ama molto l'allenatore sono i giocatori polivalenti che possono essere utilizzati in vari ruoli la tua missione è verso questo tipo di giocatori un giocatore che può fare più ruoli è una risorsa indubbia soprattutto con il discorso delle rose limitate quindi avere un giocatore che può fare più ruoli può dare una mano nelle scelte dell'allenatore è chiaro che Pecchi è un allenatore diciamo duttile il modulo è stato il 4-3 ma ha cambiato parecchi moduli nel corso della partita nel corso della stagione quindi starà a lui capire anche rispetto alle identità tattiche che vuole dare quelli che possono essere i giocatori più adatti alle caratteristiche che non vuol dire che la mentalità dell'idea di calcio deve essere la stessa possono cambiare poi magari gli schemi e moduli di gioco avere dei giocatori che possono fare più ruoli ovviamente può essere un vantaggio per qualunque allenatore e credo anche per il modo di intendere il calcio di Pecchiaro ancora di più l'ultima così facciamo col terzo Alberto è un discorso verso il vivaio te l'ho detto io guardo sempre al futuro un dirigente deve vedere dove semina il vivaio è una delle priorità il presidente diceva il sogno mio è creare il centro sportivo se ne è parlato poi non so dove siamo andati credo che la priorità ancora di più dei giocatori è di creare dei campi delle strutture per farrenare i ragazzi quindi questo la Serie A è un'occasione anche da questo punto di vista chiaro che se oggi immaginiamo un centro sportivo oggi lo avremo verosimilmente fra due anni se lo immaginiamo domani lo avremo fra due anni un giorno quindi a volte bisogna anche avere dei passi che vadano in maniera ovviamente graduale per noi la base è le strutture cercare di migliorare le strutture che ha l'Ellas il fatto che la primavera quest'anno si è allenata a Peschiera secondo me è stata una cosa molto positiva per i ragazzi per noi per tutto l'ambiente creare dei campi dove i ragazzi delle scuole più giovani possono avere situazioni più facilitanti migliori ottimali per crescere per migliorare è un obiettivo assolutamente prioritario che ovviamente prescinde dalla continuità del direttore sportivo perché le strutture rimangono i direttori sportivi e gli allenatori passano e credo che sia fondamentale per l'Ellas investire passo dopo passo su queste sulle risorse da mettere sulle strutture e questa è la volontà del Presidente Sette sicuramente anzi è una sua volontà prioritaria pari a quanto era l'idea di andare in Serie A grazie a tutti grazie a tutti